Un grande saluto a tutti voi, fratelli e sorelle che partecipate al meeting internazionale Alleluia. Siamo la Rex Band del Movimento Jesus Youth ed è una grande gioia e un privilegio per noi far parte di questo concerto ecumenico interreligioso. Portiamo i saluti di 25 paesi del mondo che fanno parte del nostro movimento. Ci piacerebbe incominciare con il canto Solo tu sei santo, dall'album della Rex Band Surice. Alleluia 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti